Diciamo le cose come stanno, così arriviamo al conquibus, non è tollerabile che chi non fa questo mestiere del doppiaggio da anni come lo faccio io, come anche tanti colleghi, e che non ha studiato per recitare, per saper recitare, possa essere chiamato a fare delle cose. A me non me ne frega niente, due battute, il protagonista e quello, non me ne frega niente, c'è gente che studia e spende fior di quattrini per le scuole di doppiaggio, si diploma, riesce a finire i corsi anche con grandi maestri e vengono abbandonati. Neanche i providi li fanno fare, neanche li fanno, si possono presentare nelle sale, cioè a seguire, niente, poi non dicessero la cazzata del covid perché è finita, qui è un discorso proprio che non gliene frega niente. E poi certo c'è anche la privacy perché qualcuno di questi qui potrebbe dire, ah sono andata ad assistere un film Disney, oppure un film Paramount, un film, eh, e la potrebbe spoilerare. Ma a chi? Ma a chi? E allora noi avremmo dovuto spoilerare tutto quando imparavamo, quando dovevamo seguire. Vabbè, ma tanto perché non esisteva neanche internet, quindi era meno, era più difficile. Ma l'ignoranza, l'ignoranza di questi ragazzinetti, come li chiamo io, che si permettono, che si permettono di dire, eh ma tanto cos'era? No, ma io non parlo di quelli che vanno a doppiare, io parlo di quelli che commentano i miei video, che si permettono di dire, eh ma eh, almeno ho avuto un'opportunità. Ma chi? Scusate mamma in cazzo. Ma chi le opportunità? Ma chi le opportunità? Le opportunità vanno date a chi ha studiato. Le opportunità vanno date a chi ha studiato e non a ragazzinetti che hanno ancora la bocca sporca di latte. No, più che altro quello che dico io, ehm, allora io non sono nel mondo del doppiaggio perché secondo me non ho una voce da doppiaggio, mi sarebbe piaciuto farlo, ma non l'ho mai voluto fare. Ma studia, vai a studiare Serena, ti fai cinque anni, sei anni e cerchi di farci, perché poi la cosa grave è nel realizzarla la cosa. Non è tanto, dici tu sai, io eh eh studio, faccio tanto, però se non mi danno le opportunità. E certo, io perché ho fatto quel video l'altro ieri dove spiegavo come funziona il mondo dello spettacolo e del doppiaggio? Perché bisogna mettersi in testa che questo è un mondo competitivo pieno di invidiosi, di nepotismo, di mafia, di massoneria e di raccomandazioni. Non ci sono altre spiegazioni, perché io le scuse, ma sai forse non sei ancora preparato, ma state zitta che metti sempre a lavorare le stesse voci, e peggio ancora, e peggio ancora, tutte uguali, tutte uguali, tutte uguali. Cioè ormai si vedono i film, allora, hai una voce particolare, non si usa, ma vada via al più. Allora, io noto che, diciamo che, io ho abitato dieci anni in America, quindi i film negli ultimi dieci anni li ho visti tutti in lingua originale. Sì, ma loro usano, senti, Serena io ti chiedo perdono, non ti chiedo scusa della mia maleducazione, ti chiedo perdono se ti interrompo. Però cazzo, noi italiani stiamo usando il metodo americano già da anni, non parliamo più italiano. Work in progress, è quello, è da, il chat, la cosa, night to night, feed to feed, peer to peer, ma parla italiano, che è la lingua più bella del mondo, che è anche la più difficile. Uno, due, che cazzarola fate gli esempi degli americani che vi permettete di mettere i talent nel doppiaggio perché loro già lo fanno? E chi se ne frega? Siamo in Italia, l'Italia è cultura, non dico che l'America non lo sia, ma l'Italia ha una storia che l'America se la sogna. Quelli hanno 500 anni, noi sai quanti ce ne abbiamo? Guarda, vedi gli etruschi, va. Allora, ragazzi, non va bene così. Per quello ti do d'accordo, sono d'accordo nel senso che abbiamo ovviamente, una storia migliore di lavoro, ma anche... Migliore, noi siamo tutto, cultura, musica, arte, pittura, tutto, ricordiamoci, ricordiamoci chi era Michelangelo Bonaroti, ricordiamoci chi era il Canova, ricordiamoci chi era Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, ma ti posso dire tutti i nomi che vuoi, Giulio Cesare, che tutti dicono era l'imperatore, ma de che? Non era l'imperatore. Comunque, lasciamo perdere. Comunque, torniamo a noi. Dicevo, avendo abitato in America dieci anni, vedevo film in lingua, ma comunque quando sono tornata ho riniziato a vederlo in italiano. Mi sta risalendo la scimmia, mi sta risalendo la scimmia, e quindi ti richiedo perdono della mia maleducazione. Ma tu ti rendi conto di quello che a volte scrivono sotto i miei video, quando dicono, ah, tanto chi se ne frega, me lo vedo in lingua originale. Ok, e qui ci sta perché, aspetta, qui ci sta perché se il doppiaggio è una cacca, e io do ragione, ma quando scrivono i film, i cartoni, vanno visti in lingua originale, io ecco che mi alzo, ecco che mi sale, ecco che mi sale la scena. Ecco che sta a salire. Ecco che esplode la Manzini. Ma come vi per... Io non dico le parolacce rispetto a Chuck, ecco, quindi non... Chuck e azione. Chuck, sì, vabbè, scusatemi, sono incazzata. Ma come vi permettete a dire che i film vanno visti in lingua originale e agli ipovedenti e ai non vedenti non ci pensate? E sai che mi sono sentito a dire? I ipovedenti e i non vedenti possono imparare benissimo l'italiano... L'italiano. Eh no, l'italiano. L'inglese. L'inglese in poco tempo. Ah sì, ah sì. Vi rendo noto che ci sono persone che non possono imparare perché hanno dei problemi anche cognitivi. Guarda veramente, oddio, quando c'è questa mancanza di rispetto Io dico che... Io dico che...